Gli operai dell'indotto Whirlpool di Sant'Angelo de Lombardi, Montoro e Forino ieri hanno manifestato con gli oltre 2.000 lavoratori a Napoli per ribadire il no alla delocalizzazione dell'azienda campana. Intanto, sempre per le maestranze dell'indotto irpino, è stato organizzato per lunedì alle ore 12 un incontro a Palazzo Caracciolo con le rappresentanze sindacali e le aziende irpine che producono per la Whirlpool. Di concerto con i consiglieri provinciali, il presidente Domenico Biancardi ha voluto infatti organizzare un tavolo di confronto alla presenza delle aziende, dei sindacati e dei rappresentanti delle amministrazioni comunali di Forino, Montoro e Sant'Angelo de Lombardi per fare il punto della situazione ed individuare possibili iniziative a tutela degli operai. L'indotto irpino è composto dalla Passel di Montoro, Cellu Bloc di Forino e Scame Mediterranea di Sant'Angelo de Lombardi per un totale di circa 200 lavoratori. In attesa di novità da parte del governo, gli imprenditori irpini coinvolti nell'indotto auspicano ulteriori interventi da parte delle istituzioni a salvaguardia dei posti di lavoro e dell'economia locale.